a tu per tu oggi ospita valteri viola consigliere provinciale di progetto trentino abbiamo un sommario con diversi argomenti andiamo velocissimamente prima di tutto una considerazione lei diceva viola che state girando incontri tematici sul terzo statuto di autonomia la consulta che cerca di raccogliere al di là di quanto ha già prodotto anche nuove sollecitazioni nuovi stimoli però c'è poca risposta da parte del territorio da cosa deriva questo si c'è questa fase di partecipazione nella quale presentiamo il documento preliminare di conclusioni sulla ipotesi insomma di terzo statuto e con franchezza parte qualche caso isolato non abbiamo una grande partecipazione molto inferiore all'attese in alcuni casi anche sale semi deserte i fattori sono molti però uno in particolare secondo me sopra gli altri noi per decenni non è un problema dell'ultima giunta neanche della penultima anche se sicuramente ci sono state delle dei picchi che dopo andrò a dire abbiamo equiparato la parola autonomia la parola risorse economiche risorse finanziarie e da un lato e dall'altra purtroppo c'è stata una progressiva provincializzazione del territorio provinciale mi spiego meglio già nel 91 l'allora onorevole azzolini parlava di sovietizzazione della provincia cioè il fatto di una provincia troppo pervasiva che entrava troppo nelle vicende non solamente istituzionali ma anche sociali ed economiche del trentino rischiando di portare trentino essere l'ultima bulgaria d'europa insomma eravamo già dopo la caduta del muro questa cosa effettivamente ha avuto uno sviluppo ulteriore dopo quelle affermazioni del 91 e ricordo che le finanziarie di dell'ai fino al 2008 soprattutto c'è meglio fino a quando è andato via ogni ogni finanziaria c'era un soggetto nuovo trentino patrimonio trentino trentino riscossioni e via dicendo teniamo conto che anche la trasformazione di tea in spi il la trasformazione di techno fin in trentino sviluppo cioè una pervasività dell'ente pubblico in forza delle risorse disponibili a discapito della libera iniziativa esatto a discapito della libera iniziativa che tra l'altro oggi vediamo anche quali riscontri sta dando su grandi partite come quello della pubblica di Polgari da Marileva allora è chiaro che nel momento in cui le risorse vengono a calare la domanda è ma l'autonomia serve ed è un po' il vera la vera questione che ci troviamo davanti d'altronde un'autonomia che fosse completamente schiacciata sul significato delle risorse effettivamente sarebbe da dire non serve più è questo allora oggi io sono convinto che ci voglia un cambiamento di parametro cioè bisogna tornare al famoso detto di De Gasperi che l'autonomia è fare meglio con meno allora su fare meglio in tanti campi bisogna dire la verità è così cioè se noi pensiamo al Trentino di oggi al Trentino di 30-40 anni fa i passi in avanti sotto tantissimi punti di vista si vedono non è che adesso bisogna stare qua a dire come purtroppo accade certe volte che siamo in Calabria ci mancherebbe altro insomma il sistema Trentino è sicuramente in salute ha delle criticità però in salute detto ciò però ci vuole veramente un cambiamento di parametro e secondo me il cambiamento prima è rivisitare l'autonomia non tanto come il valore dell'autonomia perché è vero che è uno strumento che ha valore non è un valore in sé cioè è uno strumento per la nostra comunità allora il problema è che la provincia deve riconvertire tra virgolette la propria finalità e la propria visione non onnicomprensiva, non mamma ma come dire partner ma supporto come dire sicuramente un soggetto fondamentale di sviluppo per garantire anche la coesione economica e sociale però non fagocitando non fagocitando ma mettendosi in rete con i soggetti vivi della provincia e facilitando i soggetti vivi della provincia a essere protagonisti di questo nostro sistema di convivenza Andiamo velocissimamente perché il tempo stringe allora anziani e disabili cosa avete presentato e cosa state elaborando come progetto Trentino? Allora sulla questione anziani in poche parole tutto il dibattito degli ultimi mesi e della verità ormai dal fine 2015 per cui un anno e mezzo si è focalizzato molto su questa questione della PSP delle case di riposo se fondere o non fondere fare soggetti unitari eccetera abbiamo fatto una proposta che sostanzialmente andando oltre cioè che fa i conti tra virgolette su dare una risposta alla frammentazione che c'è però valorizzando la qualità che c'è perché noi abbiamo delle case di riposo di assoluta qualità tra l'altro molto presenti su tutto il territorio provinciale e intersecando evidentemente quello che è il servizio cosiddetto residenziale che sono quelli delle case di riposo col servizio domiciliare che invece è quello del privato sociale delle cooperative eccetera chiaramente avendo come fulcro un territorio omogenei perché anche questo è di fondamentale importanza noi non siamo assolutamente persuasi che serva a fare fusioni serve sicuramente fare sistema ma è un'altra cosa bisogna mettere in rete le case di riposo devono mettersi in rete sia a livello di servizi che di sistema esprimendo degli sportelli insieme come soggetti consortili che si rivolgono come punto di accesso rispetto alla cittadinanza e alle famiglie la comunità di valle può avere un ruolo sicuro nel gestire del budget nel fare governance di attività di sistema però bisogna valorizzare questi soggetti che pur dovendo lavorare assieme facendo rete e sistema insomma non è assolutamente detto che fondendo le cose vadano meglio anzi probabilmente aumenterebbero anche i costi abbiamo sempre il tempo che stringe l'ultima questione è sulla legge sul dopo di noi noi abbiamo fatto questa proposta noi abbiamo praticamente va incontro alle famiglie di disabili in cui i genitori cominciano a avere una certa età e con progetti individuali insomma si assicura come dire il fatto che quando i genitori verranno a mancare o comunque hanno difficoltà nel accudire i figli disabili ci sia una possibilità come dire di abitazione di cura di assistenza tra l'altro prevedendo tutta una serie di strumenti insomma noi abbiamo avuto una legge nazionale l'anno scorso che era 122 che appunto è cosiddetta sul dopo di noi questa proposta di legge ce n'è anche un'altra di un altro gruppo consigliare che cerca insomma di adeguare questi strumenti nazionali al nostro panorama normativo e chiaramente con le risorse che competono a un'iniziativa di tal fatta a 10 secondi perché siamo veramente fuori tempo massimo per rispondere a questo cittadino cosa avete intenzione di fare con l'orso? ciò che ci vorrebbe un'ora ma 10 secondi cosa si fa con l'orso? se come sembra questa norma di attuazione il governo la prova ci arriverà la competenza è chiaro che sono troppi le responsabilità vengono da lontano perché è stata la giunta Andreotti che fece il progetto Leifursus per cui bisogna anche un po' capire l'evolversi eccetera di sicuro sono troppi per cui che vadano ridotti io non so il come nel senso se con catture se con mettendoli in zone protette oppure però vanno ridotti vanno assolutamente ridotti anche perché c'è un impatto negativo innanzitutto sulle persone che evidentemente incorrono in queste brutte avventure c'è un impatto negativo sulla comunità trentina c'è un impatto negativo sull'immagine ma parte l'immagine anche sul turismo che è una delle nostre risorse prime grazie Viola grazie di essere stato con noi ci rivediamo con un altro ospite grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.